Tamponi obbligatori per chi arriva da Pechino e quasi un passeggero su due risulta positivo al Covid in arrivo a Malpensa, a Milano. A Napoli invece non funziona così, almeno finora. Che non ci siano voli diretti dalla Cina lo si sa bene. Il fatto è che al momento nello scalo partenopeo non è arrivato alcun passeggero proveniente dal paese asiatico che abbia già fatto scalo altrove. Quindi nell'aeroporto cittadino la postazione per i tamponi è pronta, ma per il momento è vuota e gli operatori degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera stanno a braccia concerte. Di certo è la prudenza che ha mosso la macchina organizzativa regionale e la prudenza non è mai troppa, soprattutto ora che sulla situazione epidemiologica del paese è tornato ad alleggiare lo spettro cinese. La misura si è resa indispensabile per garantire la sorveglianza e l'individuazione di eventuali varianti del virus per tutelare la popolazione, ha spiegato il ministro della Salute Orazio Schillaci. I primi dati sui voli in arrivo dalla Cina non sono rassicuranti. Due i voli testati dal 26 dicembre nello scalo Lombardo di Malpensa, unico aeroporto regionale con voli diretti dal paese asiatico. Un volo con 92 passeggeri ha visto il 38% di questi positivi, significativa la percentuale di positivi anche sul secondo volo, con a bordo 120 passeggeri. Di questi, 62 pari al 52% sono risultati positivi.